Ciao, sono Gio Cabocci e oggi voglio iniziare questo video con una piccola magia, con un piccolo gioco di prestigio ovviamente sfruttando il montaggio video, ma poniamo di prendere una luce anulare a led un faretto che appunto avendo tanti led e un buchino al centro su cui mettere l'obiettivo della nostra fotocamera crea una luce molto bella, adatta per il beauty, tipo stiamo facendo delle foto oppure di video per dei prodotti cosmetici perché illumina in maniera molto uniforme il soggetto e subito dietro il soggetto diventa subito buio c'è una fortissima caduta di luce e poniamo di prendere appunto una webcam, un'action camera e prenderli magicamente, unirli insieme tadan! Quella che otteniamo è questa qui con mano, vado a spegnere la sua lucina si chiama Razer Kiyo, Razer che è un marchio dedicato al gaming e infatti è una webcam indicata per chi fa streaming, quindi appunto Mari su YouTube si occupa di gaming vi mando come esempio questo video di Obugul, un mio collega che appunto si occupa di gaming su YouTube in cui appunto sta facendo il gameplay di Attacco ai Titani, Attacco dei Titani comunque è un anime che vi straconsiglio di vedere e lui mentre gioca si vede il suo faccino che sta commentando appunto il gameplay e utilizza sicuramente un prodotto tipo questo siete curiosi? Andiamo a vederlo più a vicino allora questa è la confezione di vendita, non vi faccio un unboxing perché in realtà non c'è nulla dentro però sì ci troviamo anche gli adesivi e il tappino per coprire l'USB ma davvero fanno ridere voglio farvi notare questa cosa che viene proprio dichiarata come una broadcasting camera with illumination che vedremo tra poco quindi Nasce di per sé effettivamente deve fare streaming tipo su YouTube o su altre piattaforme infatti vedete che il software che non è incluso dobbiamo utilizzare o Open Broadcaster software oppure XSplit quindi software esterno, ho preso OBS che comunque è del tutto gratuito allora andiamo a vedere la nostra Kio con il suo cavetto USB ricoperto in tessuto carino il fatto che ha il lacetto in gomma morbida la presa USB personalizzata con l'interno verde wow, vabbè, ok quando la portiamo in viaggio, se magari ci spostiamo per degli incontri di giochi elettronici e game se non dico male vedete che rimane molto compatta che vedete è in tre parti la parte più bassa che è fatta molto bene vedete lo spinotto si inclina di per sé è pesante e quindi la mantiene anche in piedi e così riusciamo a prendere e inclinarla come vogliamo sempre qui sotto abbiamo la filettatura per la fotocamera per il classico cavalletto quindi fotografico quindi possiamo utilizzare anche per il cavalletto oppure utilizzando questa parte qui che è gommata sia qui che qua che sopra possiamo andarla ad agganciare in maniera molto facile sopra il monitor del nostro PC come ho fatto io sul fronte, sotto questo vetro protettivo abbiamo il forellino che è il microfono questa lucina qui che si accende quando abbiamo iniziato la ripresa e colleghiamo un attimo l'USB per vedere a cosa serve questa parte qui esterna allora eccolo qui collegato al PC con OBS studio aperto lo si vede dalla spia appunto che è accesa se noi andiamo a ruotare in senso orario la ghiera zigrinata sull'esterno guardate un po' che succede ecco questo bellissimo ring LED che illumina molto bene guardate l'effetto mettendolo di lato vedete poi il fascio di luce che si crea sul tavolo e ruotando in senso anti-orario possiamo renderlo sempre meno forte fino per l'appunto a spegnerlo del tutto ma a questo punto vi faccio vedere come risulta la ripresa utilizzando appunto la Kio questo qui in maniera poi classica messo sopra il monitor e poi andando a utilizzare la luce della Kio ma come ripresa il mio classico Samsung S7 andiamo a vedere bene in questo momento mi state vedendo e ascoltando direttamente appunto dalla nostra Kio allora risultato tutto sommato accettabile sono illuminato unicamente dalla luce anulare vedete il riflesso nei miei occhiali un po' triste che questa luce fa questi riflessi rotondi che intravedete sullo sfondo che è il riflesso della stessa luce anulare sulla plastica di fronte alla telecamera quindi l'hanno proprio progettata male per il resto per essere una 720 non è così malvagio l'incarnato è anche accettabile ma attenzione sono dovuto andare io su ABS Studio e impostare manualmente il bilanciamento l'esposizione e la saturazione per ottenere un risultato tutto sommato accettabile adesso vi faccio vedere come sarebbe il mio incarnato del mio faccione con le impostazioni automatiche allora eccomi qui con le impostazioni completamente automatiche e vedete che il mio bel faccino mix di bianco, giallo, rosso sembra praticamente un'icona pop all'handy world sempre se l'ho pronunciato bene ma adesso mantenendo sempre la luce anulare della Kyo vediamo come si comporterebbe appunto il mio Samsung S7 con questa luce bene qui invece mi vedete inquadrato al Samsung S7 e se utilizzo sempre il mio Samsung S7 quando faccio le live su YouTube questa è la spiegazione l'incarnato, l'esposizione e in generale tutta la nitidezza l'assenza dei riflessi insomma io ho queste telecamere gaming che poi richiedono di conoscere bene un software tipo appunto OBS che mi sono dovuto studiare non l'ho proprio capita ma che ne dite? andiamo alle pagelline? vai! bene, iniziamo come al solito da quello che mi piace ovviamente il fatto che abbia questa luce LED anulare integrata regolabile effettivamente anche un bel po' potente è sicuramente un aspetto positivo e poi la struttura meccanica questa staffa che possiamo utilizzare sia da solo grazie al fatto che è pesante sia utilizzando la filettatura su un classico cavalletto fotografico sia agganciandolo sullo schermo del nostro monitor o del nostro portatile lo rende davvero molto molto pratico cosa che invece non mi piace è il fatto che gli automatismi non sono così automatici una webcam o qualsiasi altro prodotto dovrebbe essere idealmente plug and play un termine inglese vuol dire che inserisci e funziona funziona ovviamente bene qui no purtroppo l'avete visto non funziona assolutamente bene certo richiede non c'è nessun software incluso di utilizzare OBS che è un software che si deve conoscere e quindi si deve andare appunto a giocare con le regolazioni una volta che si utilizzano le regolazioni manuali finalmente abbiamo un risultato che può essere utilizzato seconda cosa la qualità in generale è abbastanza bassa secondo me gravissimo quel fatto che la luce anulare faccia riflessi sulla lente frontale sarebbe bastato mettere la plastica davanti un centimetro più dietro e non si sarebbe creato questo effetto un po' sgradevole ma soprattutto perché farla soltanto a 720p certo chi fa streaming se non vuoi avere problemi di lag di ritardi di saltellamenti si tiene la qualità bassa poi spesso appunto il faccino si mette piccolino in un angolo quindi vanno bene 720p ma se per caso dico no io ci voglio registrare un video come quello che state vedendo adesso e ragazzi questo video è 1080p in full hd e c'è chi registra anche in 4k quindi una webcam secondo me fatta davvero bene su cui vale spendere i soldi deve avere appunto almeno il full hd 1080p tutto qui come al solito spero di esservi stato utile se lo sono stato mettetemi un bel mi piace se la mia recensione non va bene ditemelo nei commenti così capisco come fare meglio la prossima recensione se volete sostenermi condividete il video ovvio più persone mi vedono e più il canale andrà a crescere se non siete iscritti il bollino vi aspetta sempre lì sopra e un altro video se volete vederlo ve lo suggerisco qui a fianco e quindi da me e da questa webcam ciao e alla prossima